Che è oggi Dino Pedriali? Ma Dino Pedriali è un artista un po' fermato, non so, forse per un elemento caratteriale mio, per tante cose, per una cattiva gestione giovanile. Io reputo che ho un buon 80% di colpe, forse, ma quel 20% è che un artista deve essere lasciato così com'è, con i suoi difetti, con le sue follie, ma non impedirgli di proseguire. Io, il mio sogno è sempre quello, oggi più che mai riuscirei a svolgere il lavoro di fotografo in tanti campi, anche nel divertimento, anche in questa costruzione che ho fatto io, sono qua appoggiato, questa sfera è una sfera su cui io vorrei fare tutta una serie di nudi, per dare proprio questo simbolo, non metterei il colore, no? Cioè, adoro il bianco e nero perché ti fa lavorare di più con la fantasia. Tu immagini a questo oggetto, voglio dire, con l'idea appunto che è una sfera, con la maestria del tocco di luce, la sfera vuol dire il mondo. Allora vorrei, in senso ironico, giocare su quello che è, diciamo, ecco, il concetto del mappamondo, no? Questo elemento. È come se questo è il mondo di cui io piano piano, il concetto mio, il mio piacere sarebbe questo, questa sfera che è il mondo, il mondo futuro e non passato, questo elemento piano piano si scorge degli occhiali, protetto, diciamo, da un vetro, diciamo, da una cosa, qualcuno che osserva. È un po' questo quello che l'artista del terzo millennio deve fare. Quello che lo sa fare, diciamo, che riesce a conquistare molto più, come hai detto tu all'inizio, la borghesia, forse diventa ricco, miliardario, pieno di successo, poi ci sono artisti che sono più difficili, no? Meno, meno, forse io appartengo a quel genere di artisti che il mio nudo mi inquieta l'animo, fa riflettere, allora la gente indigreggia. Questo è un, lo dico io così qua, ma non mi preoccupo. So che potrei, il senso di poter oggi, rispetto ai miei trent'anni passati, svolgere un po' come, come posso dire, a 360 gradi, cioè dare un solo stile, ma l'applicazione della fotografia in tante cose, che vi sono un po' più rilassato. Per magari rilassarmi puoi entrare nel grande tema compositivo che io vorrei varcare, percorrere una certa iconografia di immagine su delle costruzioni di scenari di nudo, come delle oasi o dei luoghi, non voglio dire il paradiso per dire, no? Ma ecco, creare, creare questo, questo senza dubbio richiede molto, molto impegno, richiede anche e soprattutto molto, molto spazio, no? Uno spazio così mi permette di fare il nudo, anche due, tre riesco a fare, ma costruire, ecco, questo è un po' quello che per il momento si è fermato, ma solo per capire il momento storico che sto vivendo.